Lunghe code automobilisti infuriati questa mattina a Verbagna e lavori di rimozione della passerella pedonale ormai pericolante nel cannetto di Fondotoce con il conseguente senso unico sulla statale 34 hanno causato pesanti disagi al traffico già a partire dall'alba. L'autogru che è stata utilizzata ha infatti occupato una corsia, il ponte vecchio è stato rimosso ed è stato sostituito con una passerella ora agibile. L'intervento sarà ultimato giovedì prossimo 2 agosto con le stesse modalità. Rallentamenti e circolazione in tilta si sono creati già dalle 7.30 non solo sulla slitorania ma anche sulla provinciale di Bieno e poi a catena anche sulla viabilità interna. Bloccata la rotonda del plush, i lavori con l'autogru fortunatamente si sono conclusi prima del previsto, la strada è stata riaperta normalmente intorno a mezzogiorno e mezza. Come è accaduto anche recentemente in occasione dei disagi per il giro rosa, la rabbia degli automobilisti si è scatenata sui social. Quasi tutti hanno lamentato la decisione di compiere questi lavori nel momento clou della stagione turistica con il traffico già di per sé rallentato. Altri hanno chiesto perché non si è operato di notte anziché di giorno. E la questione diventa anche politica. Forza Italia che nei giorni scorsi aveva inviato una nota attaccando il pessimo tempismo dell'amministrazione comunale dichiara una mancanza di organizzazione assolutamente totale da parte di un'amministrazione allo sbando con una catena di errori imperdonabili. Prima l'aver pianificato un simile intervento nel periodo di maggior afflusso turistico, poi evidentemente non aver saputo comunicare nella maniera giusta la chiusura della statale ai cittadini e infine non essere stata in grado di gestire il traffico nel momento critico. Nello stesso tenore la Lega, traffico verbanese nuovamente intilti in piena stagione turistica. Il sindaco e la sua giunta dimostrano di non essere in grado di programmare in modo efficiente interventi che da mesi dovevano essere effettuati. Non è pensabile per due giovedì consecutivi paralizzare il traffico con interminabili code causando disagi per i residenti che devono anche andare al lavoro e per i turisti.